Andrea Sciarrelli mette fine alla crisi della Dinamo Chiet con una doppietta che dirà dalle nubi grigie che si stagliavano all'orizzonte, un pareggio che sta di vittoria con Wonder Play che dilapida il doppio vantaggio maturato nella prima frazione e fa mea culpa per i numerosi errori sotto porta. Diretti dal Signore Di Sante i 22 attori presenti in campo devono fare i conti con il forte vento, spesse volte protagonista come accade al decimo con il rinvio di Gian Cristofaro che viene capitalizzato da Carota, la cui conclusione termina comunque oltre la attraversa. Al dodicesimo ottima combinazione Figurilli Scalera con quest'ultimo che perde l'attimo fuggente consentendo la provvidenziale chiusura di Matteo Gianzante. Sciarrelli appare ispirato e al quarto d'ora una sua sventagliata serve Scalera che supera in maniera sublime di Vincenzo con un pallonetto ma viene poi contrastato da dell'arciprete che ne affritta la conclusione per il numero 7 teatino la gloria resta una chimera. Primavera palla gol dell'incontro al ventesimo Carota serve Luciani assist al centro ribattuto dalla difesa Carota ribadisce in rete con Gian Cristofaro che respinge ma la sfera capita sui piedi di Darmanin che calcia altissimo a 5 metri dalla porta. La Dinamo Chiet pareggia il conto delle occasioni un minuto dopo con Schiazza che in piena area controlla e calcia alto da buona posizione c'è però il fischio del direttore di gara di Sante che cancella di fatto l'azione per un presunto offside. Al ventiduesimo Luciani premia l'inserimento di De Lorenzo Veronica lungimirante del numero 30 che al momento di concludere viene spinto in maniera plateale da Peca. Rigore lampante quello decretato dalla giacchetta nera con il replay che testimonia la bontà della decisione intrapresa dall'arbitro. Le civili proteste della Dinamo Chiet non deconcentrano Luciani che impallina un impietrito Gian Cristofaro con una conclusione potente e precisa. La risposta degli ospiti non tarda ad arrivare e di primio pesca figurilli. Il rimbalzo del pallone non facilita il compito del numero 20 che supera con un pallonetto canale in uscita disperata ma la sfera termina stancamente sul fondo. Ci prova allora Scharrelli su punizione ma canale si supera deviando in angolo complimenti sinceri sia all'autore della punizione sia al portiere che sventa il pericolo e raccoglie i complimenti dei compagni. Sul tiro d'angolo Peca si avvita e canale sfiora il pallone spedendolo sulla traversa prima della provvidenziale chiusura di Danilo Santoro che anticipa il potenziale tapì vincente di figurilli. Wonderplay si rivede alla mezz'ora con Luciani che prima tenta un inopinato colpo di tacco poi prova a farsi perdonare con un'azione solitaria conclusa con un tiro che impegna Gian Cristofaro. Scharrelli continua a dispensare assist e al 32esimo proietta figurilli davanti alla porta avversaria con il numero 20 che resiste alla carica di Di Vincenzo ma poi si prodiga in un pallonetto troppo timido che salta ai riflessi di canale. Sul susseguente calcio d'angolo arriva il raddoppio locale con Mattia Gianzante che raccoglie il lungo corner di scalera anticipa Di Nardo e parte in contropiere senza conoscere ostacoli. Le lunghe leve gli consentono di superare in velocità dell'IA e Di Paolo prima di concludere il tutto con un esterno destro che termina la propria corsa in fondo al sacco. Wonderplay ha la palla delle trissa lo scadere del primo tempo con un rimpallo sul direttore di gala che viene capitalizzato da Carota che resiste ai contrasti con i difensori avversari ma calcia poi altissimo gittando alle ortiche il colpo del KO. Nella ripresa sono i locali ad andare nuovamente vicino al 3-0 ma Gian Cristofaro disinnesca un ottimo servizio di Carota con un'uscita bassa che sbarra la strada a Luciani. Poi è De Lorenzo a servire il capitano di Wonderplay con Luciani che elude l'estremo difensore ospite ma deve fare i conti con il capitano Di Paolo che salva sulla linea di porta. Al ventesimo De Lorenzo orchestra un'altra ripartenza con Carota che viene fermato per offside e con De Lorenzo che protesta in maniera vibrante con la giacchetta nera. Devastante l'azione di Carota lungo l'auto di sinistra accelerazione e controllo di palla impeccabile prima di andare in riserva di energie e crollare a terra stremato al momento di concludere. Leziosismo puro la mezz'ora con De Lorenzo che serve Mattia Gianzante. Il centravanti si attarda in attesa dei rinforzi e serve Darmanin che prova un colpo di tacco invece di capitalizzare l'azione di contropiede prima del tiro di Luciani e della susseguente ribattuta di De Lorenzo che però non vale il 3-0. Si rivede finalmente la Dinamo Chiette nella parte finale di gara con Peca che raccoglie un lancio di Sciarrelli prepara al meglio il tiro ma poi manca l'impatto con la sfera al ridosso della porta. Minuto a 33 la gara si riapre con un contatto Tolu di Vincenzo che viene punito con la massima punizione. Wonder Play protesta e le immagini mostrano l'intervento scomposto del difensore che probabilmente genera l'assegnazione del penalty. Dagli 11 metri Sciarrelli spiazza Canale e la Dinamo Chiette inizia a credere nel pareggio, un'eventualità che prende forma nel recupero quando Sciarrelli batte un calcio d'angolo insidiosissimo che termina la propria corsa sul secondo palo alle spalle di Canale. Gioia immensa per il centrocampista Tiatino che viene degnamente festeggiato dai compagni di squadra. Finisce 2 a 2 una gara che premia la voglia di rimonta degli ospiti punendo severamente la formazione locale incapace di chiudere definitivamente la contesa.